Il suo intervento verte sui cambiamenti climatici e energie rinnovabili. A che punto siamo in Europa? Buon pomeriggio a tutti. Il mio nome è Fabio Monforti, ferrario, lavoro presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra. Il Centro Comune di Ricerca è una parte del complesso macchinario di cui è fatta l'Unione Europea, in particolare della Commissione Europea, ed è formalmente una direzione generale, sarebbe l'equivalente di un ministero per un'amministrazione nazionale, ma ha un ruolo un po' particolare. È appunto un centro di ricerca, ha il ruolo di fare da servizio scientifico della Commissione Europea e di supportare lo sviluppo delle politiche prodotte dall'Unione Europea. In altri termini, i colleghi che lavorano nelle direzioni generali per l'ambiente, per il clima, per l'energia, il mercato, eccetera, sviluppano politiche, diventano, sono capofila, si chiama di ciascun provvedimento politico, ogni provvedimento politico ha un capofila che è la direzione generale di cui rientra il maggior interesse, a cui afferisce il maggior interesse del provvedimento. Noi non portiamo avanti i provvedimenti in sé per sé, ma produciamo dati, evidenze scientifiche, competenze scientifiche, a coadiuvare, a supportare il lavoro dei colleghi, principalmente basati a Bruxelles, che svolgono il lavoro di produzione della legislazione europea. Scusate, sono abituato a camminare durante le presentazioni, cercherò di limitare il raggio d'azione. Allora, in quanto servizio scientifico della Commissione Europea, vi dicevo appunto, non abbiamo un ruolo direttamente di produzione delle politiche, ma abbiamo un ruolo, a volte anche abbastanza importante, di supporto e di sviluppo alle politiche stesse. Mi hanno chiesto di descrivere un po' dettagliamente cosa facciamo, dove siamo, eccetera, eccetera. Come siamo situati non soltanto a Bruxelles, ma abbiamo sedi in altri cinque stati membri dell'Unione Europea, in Belgio, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi e in Spagna. Il centro più grande è situato a Ispra, che è una piccola cittadina sulle coste del Lago Maggiore, in Lombardia, dove anche io lavoro personalmente, dove lavora la più grande parte dei funzionari che lavorano presso la direzione generale del centro comune di ricerca. Qualche numero, il budget è di circa 386 milioni di euro all'anno per il funzionamento nel nostro centro di ricerca, più 60 milioni che, come fanno le università, come fanno anche altre entità che si occupano di ricerca, andiamo a cercare sul mercato. Vuol dire che noi stessi partecipiamo a bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e comunque in base a quelli incameriamo la cifra che qua vedete. La cosa importante, il perché esiste il centro comune di ricerca, è dato dal secondo punto che vedete qua, l'indipendenza. Chiaramente, ne parleremo poi anche più in dettaglio dopo, chiaramente, siccome l'Unione Europea, come sapete, produce legislazione che ha un effetto effettivamente tangibile sulla vita dei cittadini europei e sugli stati membri, su tutte le entità che lavorano nell'Unione, chiaramente nel processo legislativo i colleghi di Bruxelles vengono in qualche modo riempiti di dati, informazioni, punti di vista, eccetera, eccetera, provenienti dai più svariate fonti di informazioni. Possono essere stati membri, siano portatori di interessi, siano le cosiddette lobby, siano l'industria. Serve qualcuno che sia in grado di leggere questi dati, di capirli, che quindi abbia una formazione scientifica, perché molto spesso si tratta di dati tecnici, di dati molto specifici su gli argomenti più disparati, quindi serve avere delle persone che abbiano una formazione tecnico-scientifica, ma che non rappresentino nessuno degli interessi che hanno portato quei dati sul tavolo e possibilmente che oltretutto produca dei dati ulteriori di cui si è sicuri, si ha garanzia, che non rappresentino, non siano come quello che si dice, un interesse vestito, non ci sia un interesse vestito dietro. Il 30% della nostra attività si svolge nella fase di concezione delle politiche, cioè quando si sta decidendo, per esempio, qual è il prossimo target per gli abbattimenti della CO2, per fare un esempio. Ma il 70% si svolge anche durante la fase di implementazione. Lavorare sulla raccolta dati, come stiamo procedendo, come stiamo andando avanti nell'abbattimento delle emissioni, nell'energia rinnovabile, eccetera, eccetera, è comunque un lavoro che necessita una competenza tecnica su cui noi diamo supporto. Vi lascio perdere gli altri indicatori, solo per dirvi che appunto siamo circa 1500 ricercatori, persone che hanno formalmente lo stato di staff scientifico, più altrettante circa di supporto fra tecnici, amministrativi, eccetera, eccetera. Lavoriamo non solo, io parlerò adesso di cambiamento climatico di energie rinnovabili come promesso dal titolo, ma non lavoriamo solo su quello, lavoriamo su molti degli aspetti che sono stati citati anche nei precedenti interventi. C'è un gruppo, c'è una unità che si occupa di migrazioni, c'è un'unità che si occupa di cyber security, c'è un'unità che si occupa di cibo, nutrizione e salute e tante altre priorità che sono blandamente, sono coerenti con quelle che sono le priorità della commissione Juncker, Jean-Claude Juncker quando è stato eletto presidente della commissione ha messo sul tavolo dieci priorità per l'unione, una per esempio su cui abbiamo lavorato molto è l'Energy Union e quindi abbiamo una parte molto importante che si occupa di energia e di cambiamenti climatici. Che altro dire? Alcuni esempi, questi sono alcuni esempi di laboratori che abbiamo sviluppato, abbiamo un laboratorio per la misura delle emissioni da veicoli che fa da standard per la produzione e la valutazione delle norme euro e non solo. Abbiamo aperto recentemente il primo laboratorio per la valutazione di emissioni da auto elettriche, in questo caso si parla non di emissioni tradizionali di inquinanti ma si parla di emissioni elettromagnetiche. Le auto elettriche sono motori elettrici, hanno una notevole potenza, i motori elettrici producono una serie di emissioni in diverse bande dello spettro elettromagnetico che vanno opportunamente schermate e tenute sotto controllo, ma per misurarle in maniera attenta in un mondo in cui, come sapete bene dal fatto che potete usare i telefonini ormai praticamente dovunque, la base elettromagnetica, l'etere, riempito di radiazioni elettromagnetiche su svariate frequenze, servono quelle che vengono chiamate delle camere anecoiche che servono per schermare tutto ciò che è fuori per vedere cosa emette la nostra auto elettrica. Questo è un altro lavoro che faccio io, nello specifico, mi occupo di inquinamento atmosferico, abbiamo fatto degli studi su qual è la provenienza dell'inquinamento atmosferico nelle varie città europee che ancora purtroppo soffrono di questo problema, in questo caso vedete uno studio dell'inquinamento atmosferico misurato a Verona, ci sono diverse città, questa è la più vicina a Trento che ho trovato nel nostro atlante dell'inquinamento atmosferico che vi dice qual è l'origine, qual è sia spaziale che settoriale e come potete immaginare questo è un tipo di lavoro che è assolutamente fondamentale per aiutare il decisore politico, per supportare il decisore politico nel decidere che cosa fare. Se vedo che come in questo caso la mia quota di trasporto è prenovinante sull'industria prenderò un certo tipo di misure piuttosto che altre. Ancora qualche altro esempio che non è tratto dall'argomento principale dei cambiamenti climatici, politica fiscale, si è parlato negli interventi precedenti anche degli aspetti economici, degli aspetti di come per quanto riguarda il welfare state, le uguaglianze e disuguaglianze fra Stato e Sociale nei diversi Stati europei, c'è anche un aspetto di politica fiscale, di armonizzazione della politica fiscale, alcuni colleghi hanno sviluppato un modello di politiche fiscali come queste influiscono all'interno di diversi Stati e fra uno Stato europeo e l'altro, l'Unione europea e l'esterno. Veniamo a noi, passiamo un po' a quello che volevo raccontarvi un po' più su quello che è il tema della presentazione. Ecco, questa è la immagine, diciamo, più classica per quanto riguarda che viene mostrata di solito quando si parla di cambiamenti climatici, che rappresenta la stima media della temperatura svettuata ogni anno, anzi in realtà ogni mese, ma qui vedete i dati annuali e in rosso vedete una media pluriannuale della temperatura soffersiciale del pianeta. Come vedete appunto abbiamo un incremento e se mettiamo sullo stesso grafico le concentrazioni di CO2 come faceva vedere anche il relatore precedente, vediamo che le concentrazioni di CO2 salgono insieme alla temperatura. Ora, chiaramente come sapete questo non esaurisce il discorso, il processo di cambiamento climatico è ben più complesso del puro effetto radioattivo della CO2, ci sono di mezzo considerazioni anche su come il sistema della Terra reagisce dal punto di vista della disposizione per esempio della biomassa, per esempio della riflettività del pianeta, eccetera, eccetera. Detto tutto ciò che noi non andremo in dettaglio in questa presentazione, è vero che la concentrazione di CO2 e di gas serra in generale è un indicatore importante, è una causa importante a opinione della stragrande maggioranza di chi lavora in questo campo, dei climatologi che lavorano in questo campo, di inganziamento della temperatura e tutte le conseguenze relative al cambiamento climatico. Dicevamo prima stamattina nella presentazione che hanno fatto alcuni ragazzi della scuola media che questo è un interessante esempio di come ci si renda conto via via di quale sia la complessità del sistema con cui si ha a che fare. I ragazzi stamattina avevano fatto dei bellissimi lavori in cui i loro professori gli hanno fatto vedere come diciamo l'ambiente sia un oggetto estremamente interconnesso parlando di economia circolare parlando di consumi parlando di energie eccetera eccetera gli hanno fatto capire un po' come la complessità del sistema ambientale. La CO2 è anch'essa un esempio. Io mi sono lavorato in fisica e quando mi sono lavorato in fisica il climatologo la specialità della climatologia non era una figura particolarmente coinvolta nel processo politico non più di quanto sia attualmente l'astrofisico per dire ma era una figura professionale che si occupava di statistiche che si occupava di vedere un po' questi interessanti cambiamenti del clima come cambiava il clima sulla base di statistiche almeno trentennali c'erano anche meno dati per carità quindi era anche più difficile capire il sistema in sé ma soltanto si cominciava allora a capire un po' gli effetti della pressione antropica sul cambiamento sul clima dopodiché negli ultimi decenni la questione esplosa tant'è vero che appunto come diceva anche il relatore precedente in realtà è già da un po' di tempo che si fa qualche cosa ma non così tanto tempo perché comunque tutto sommato considerando che emittiamo CO2 dalla rivoluzione industriale c'è voluto un certo tempo per capire che i gas serra hanno un impatto sul clima e soprattutto c'è voluto un certo tempo perché la società nel suo complesso realizzasse il pericolo e se cominciasse a prendersi in carico la situazione detto ciò a che punto siamo ecco appunto questa è la la curva di emissioni di CO2 un po' più in dettaglio più aggiornata come vedete appunto sale non ci siamo stiamo lavorando da parecchi anni su questo effettivamente a livello globale la CO2 continua anche se sembra un po' meno di prima a salire se andiamo a vedere in dettaglio per macro regioni del pianeta vedete in blu vedete la la Russia in verde l'Unione Europea in viola gli Stati Uniti e in rosso vedete la Cina in quanto rappresentante dei paesi in via di rapido sviluppo se vedessimo l'India dovremmo essere più o meno la stessa tendenza vedete quindi che ci sono due diverse sostanziali tendenze abbiamo i paesi appunto l'Unione Europea che sta abbattendo con una certa costanza anche se come diceva chi mi ha preceduto con un certo rallentamento in quest'ultimo periodo gli Stati Uniti anche qui nonostante tutte le difficoltà nelle visioni delle diverse amministrazioni qualche cosa ancora si sta vedendo di abbattimento si vedono paesi appunto come per esempio la Cina che invece stanno contribuendo molto più rapidamente molto più sostanzialmente alla produzione di gas ad effetto serra se andiamo all'interno dell'Unione Europea dove tutto sommato vedete per esempio questo ultimo puntino è abbastanza interessante perché fa vedere una piccola tendenza a rialzo che nelle ultime discussioni che ci sono state nella COP 2018 è stato un discorso abbastanza se ne è parlato molto di questo possibile inversione di tendenza da parte anche dell'Unione Europea comunque se vedete da dove vengono queste emissioni vedete che la parte energetica rimane sostanzialmente la più importante per quanto non più del 50 ma rimane molto importante insieme alla parte questo è il consumo per residenziali in agricoltura industria trasporti e altri settori questi sono i dati aggiornati mi pare al 2016 come tipologia di emissioni quindi rimane fondamentale lavorare sul come produciamo e sul come consumiamo energia e su quello scusate continuo a sbagliare tasto su quello in realtà dobbiamo anche qui registrare dei progressi molto interessanti nel 2009 l'Unione Europea si era data l'obiettivo di raggiungere almeno il 20% di una quota di almeno il 20% di consumo energetico originato da risorse rinnovabili al 2016 eravamo dati ufficiali al 17% la stima quasi definitiva sostanzialmente definitiva per il 2017 parla di un 17,4% sul 2018 le prime stime cominciano a parlare di un 18% comunque ci stiamo avvicinando all'obiettivo complessivo del 20% in una maniera non sempre omogenea fra stati membri vedete che alcuni stati membri qui in giallino sono quelli che hanno già raggiunto e superato in alcuni casi il target del 2020 l'Italia è fra questi l'Italia nel 2014 ha raggiunto il suo target che era del 17% e l'ha più o meno mantenuto da allora altri stati sono ancora lontani alcuni probabilmente non ce la faranno vedete per esempio l'Olanda che nonostante spesso abbiamo la visione di un paese molto avanti nelle cure ambientali ed è vero purtroppo per quanto riguarda invece la parte di energie rinnovabili è abbastanza indietro rispetto agli obiettivi quindi diciamo le stime sono quelle di un raggiungimento complessivo di un obiettivo probabilmente non sempre non per tutti gli stati nello stesso allo stesso modo comunque è stato fissato definitivamente proprio poche settimane fa dopo una lunga discussione fra Parlamento Consiglio e Commissione quelli che in termini tecnico si chiama Trilogo un nuovo obiettivo che è al 32% per il 2030 obiettivo questa volta comunitario senza dare degli obiettivi specifici agli stati nazionali perché si è visto che il fatto di aver dato a ciascuno stato un obiettivo per esempio l'Italia aveva il 17% la Svezia aveva il 50% mi pare comunque il fatto di aver dato a ciascun stato un obiettivo per quanto ragionevole ha ingenerato esattamente questo effetto per cui una volta raggiunto l'obiettivo lo stato era posto nel senso che non aveva particolari incentivi a far salire la quota la sua quota che sarebbe contata per la cosa per il target complessivo e comunque diciamo ha un po' impigrito certi certi stati a discapito di altri l'obiettivo del 32% sarà complessivo non ci saranno obiettivi nazionali ci sarà un obiettivo unico comunitario e ci saranno dei meccanismi di solidarietà abbastanza complessi ma si spera efficaci per portare comunque avanti tutti gli stati evitando ancora che alcuni stati si prendano in carico la corso e altri invece siano un po' più altraino grazie all'effetto della media volevo dirvi un'altra cosa questo no quindi diciamo da questo punto di vista l'energia rinnave ah si scusate l'obiettivo un'altra cosa importante al 2030 l'obiettivo è attualmente fissato al 32% proprio per il fatto che le opinioni fra i diversi partecipanti alla discussione fra i diversi portatori di interesse erano abbastanza divaricate c'era chi diceva ah questo è un obiettivo impossibile questo è un obiettivo troppo invece troppo poco ambizioso si è deciso di rivedere di darsi una data per rivedere questo obiettivo in particolare la data è il 2023 nel 2023 si guarderà un po' come stanno procedendo le cose anche in base a questo punto meccanismo comunitario non più nazionale e si potrà cambiare l'obiettivo ma solo in su non si potrà abbassare il 32% ma si potrà eventualmente se le cose vanno bene diciamo così bene si potrà aumentarlo sempre tenendo come orizzonte il 30% una cosa interessante però a parte questo appunto questo cappello normativo una cosa interessante è vedere come diciamo nella pratica le energie rinnovabili stiano evolvendo stiano diventando da stiano passate un po' da essere un po' delle tecnologie protette delle tecnologie che si sviluppavano soprattutto grazie a incentivi non so se avete seguito qualche anno fa c'è stata una polemica sugli incentivi sul fotovoltaico che siccome erano in alcuni paesi non solo in Italia dire la verità ma in alcuni paesi erano estremamente generosi quando poi si è cominciato a ridurli sembrava che il fotovoltaico a questo punto forse qualcuno diceva il fotovoltaico è morto in realtà no grazie a questo effetto diciamo di volano portato avanti dagli incentivi c'è sempre più privati cioè persone il cui interesse principale è guadagnare rimanere sul mercato che investono in tecnologie rinnovabili questo sono dei dati di Bloomberg Bloomberg è oltre a essere stato il sindaco di New York e anche il capo di una delle più il proprietario di una delle più importanti fonti di agenzie di informazione nel campo dell'energia sono dati che dicono quanto quanti soldi vengono investiti in tecnologie rinnovabili e la cosa interessante è che la parte rossa è la Cina anzi l'Asia in generale mentre invece la parte verde che si distingue malappena dalla parte azzurra sono rispettivamente l'Europa e l'America soprattutto Stati Uniti e Canada quindi come diceva anche qui qualche relatore precedentemente la Cina sta entrando prepotentemente in tanti mercati uno di questi è proprio quello delle energie rinnovabili ci sono investimenti ci sono si sta ingenerando quell'effetto che secondo la teoria economica dovrebbe essere ingenerato spesso ma non sempre qualche volta non si è visto del fatto che si comincia a spingere una tecnologia una soluzione con soldi pubblici quando il mercato non la può aiutare quando non è ancora abbastanza matura per resistere al mercato e a un certo punto questa parte e va su questo per lo meno per quanto riguarda il fotovoltaico il solare scusate il vento eccetera pare che si sia si sia ingenerato questo circolo virtuoso altre tecnologie rimangono un po' indietro per esempio le maree ottenere energia usando il moto ondoso è una cosa che è ancora se fattibile è ancora estremamente più costosa rispetto ad altri altri tipi di soluzioni vedremo se in futuro riusciranno a entrare anche loro in questo circolo virtuoso ecco allora questa è un po' la situazione quindi cambiamenti climatici e energie energie rinnovabili per supportare la lotta ai cambiamenti climatici la cosetta mitigazione cioè cercare di evitare il cambiamento climatico per quanto possibile secondo le diciamo le decisioni politiche più recenti di rimanere nell'ambito dei due gradi di aumento di temperatura con una tendenza a rimanerci rimanendo sotto possibilmente il più possibile verso gli 1,5 gradi di temperatura di aumento climatico questa è un po' la formula che è stata utilizzata all'interno dell'accordo di Parigi per spiegare dove vogliamo arrivare ok tornando a noi cioè quello che facciamo come ricercatori all'interno di un'entità sostanzialmente di policy making qual è la commissione europea questo è un interessante esempio che ho portato anche stamattina ai ragazzi delle scuole cercare di approfondire il quadro e mettere fatti sul tavolo che sono relativamente meno conosciuti ma non per questo meno importanti questo è un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa riguarda il consumo energetico legato alla produzione di cibo nel grafico vedete diversi tipi di cibo scusate i nomi in inglese e mentre in verticale vedete il contenuto energetico anzi non il contenuto energetico scusate il dispendio di energia necessario per produrre portare sulla tavola e smaltire un chilo di quel prodotto e vedete che diversi tipi di alimenti qui avete verdure mele arance patate qui avete da questa parte invece avete oli qui invece avete formaggio burro carne di scusate ah no disastro un momento scusate ho schiacciato il tasto sbagliato ecco qua ce l'avete ok diversi tipi di alimenti la cosa interessante se volete è dare un senso alla scala verticale di questo grafico mettendo un confronto questa linea è l'energia contenuta in due litri di combustibile diesel questo significa che per produrre un chilo di carne di manzo per esempio voi dovete consumare o inducete nel sistema il consumo di una quantità di energia che è equivalente a quella di due litri di benzina di diesel scusate se volete questo è anche interessante per quando per le scelte spesso si dice appunto di un po' cercare di fare delle scelte di vita che siano ecologicamente sostenibili uno di solito pensa prendo il treno vado in bicicletta mi compro la macchina elettrica cerco di evitare spengo la luce uso elettrodomestici di ultima generazione per consumare meno energia in realtà mangiare ha un effetto sul consumo energetico della società assolutamente non trascurabile anzi se voi decidete di mangiare un chilo di carne piuttosto che un chilo di mele state inducendo un consumo energetico nella società pari più o meno a quello che risparmiate facendovi in bicicletta 30-40 km invece di prendere la macchina perché se considerate che con due litri di carburante più o meno fatte a seconda di quello che avete fate 30-40 km dipende dall'efficienza della vostra macchina e quindi le vostre scelte alimentari dal punto di vista della sostenibilità sono equivalenti alle vostre scelte quando scegliete una mobilità sostenibile quando si dice scegliamo conscienmente una mobilità sostenibile cerchiamo di prendere di utilizzare il meno possibile le auto che inquinano e mettono eccetera non è solo questo anche altre scelte che magari voi non considereste a prima vista così importanti lo sono tant'è vero che in questa stima si consuma che il cittadino europeo in totale si stima che il cittadino europeo in media consumi l'equivalente di 650 litri di diesel per quanto riguarda l'energia e non sto parlando di emissioni in questo caso sto parlando solo di consumi energetici per nutrirsi e che il 25% di tutta l'energia consumata in Europa in un modo o nell'altro sia relativo ai consumi alimentari dei suoi cittadini che è una cifra se ci pensate abbastanza consistente soprattutto di solito non considerata ecco quello che facciamo appunto nel nostro centro di ricerca è un po' cercare ogni tanto ci chiedono proprio esplicitamente degli eye opener come dicono alcuni colleghi di aprire gli occhi durante una discussione politica di intervenire come eye opener apertori di occhi suono un po' male in italiano per produrre una maggiore consapevolezza su certe tematiche che poi può diventare appunto un aspetto legislativo un lavoro che abbiamo fatto anche recentemente ne parlava ancora qualcuno dei relatori precedenti il fatto che su come l'Unione Europea come le politiche ambientali dell'Unione Europea comunque si inseriscono all'interno di un processo globale queste sono quelle che vengono chiamate curve di Kuznet che sono delle curve sviluppate teoricamente già da alcuni decenni sul fatto che mettono in relazione la benessere di una società con l'inquinamento che esso produce questa curva che qua è sperimentale questi sono gli Stati Uniti e questo è l'inquinamento da Zolfo emissioni di Zolfo quello che succede teoricamente e si vede spesso anche in maniera sperimentale è che c'è una fase iniziale in cui si ha una società uno sviluppo selvaggio l'inquinamento aumenta 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 perché comunque bisogna crescere bisogna risolvere problemi tangibili mangiare portare tutta la società a un livello fuori dalla povertà e così via e poi si a un certo punto entra in gioco questo è quello che è successo in occidente se qualcuno di voi ha visto il film Erin Brokowicz per esempio ci sono anche altri libri c'è un libro famoso che si chiama Silent Spring che racconta di come negli anni 70-80 ci fu la presa di coscienza dei primi movimenti ambientalisti ci fu l'inizio di una discussione sulle tematiche ambientali si prende coscienza si trovano delle soluzioni in modo da far sì che il benessere continua a crescere ma l'inquinamento comincia a scendere come abbiamo visto nella curva precedente probabilmente alcune regioni del mondo sono già sulla fase discendente certe altre sicuramente no appunto abbiamo visto l'esempio della Cina la quale se riportiamo i dati precedenti non sta facendo altro in realtà che raggiungere in termini di emissioni pro capite quelle che sono le emissioni pro capite dell'Europa le ha già raggiunte e superate non ha ancora raggiunto invece per esempio gli Stati Uniti ma si attesta già molto di sopra della media mondiale che è quella riga in nero che vedete qua allora è necessario tutto ciò ci siamo uno dei lavori che abbiamo fatto è basato proprio su questa domanda è necessario ripetere effettivamente la stessa strada in realtà ci sono delle soluzioni adesso vi spiego perché vi faccio vedere l'Africa non è necessario effettivamente che ogni società ripercorra la stessa strada che hanno fatto le altre soprattutto se non è la prima ripercorre la stessa strada passi per una fase di fortissimi impatti ambientali e poi ne esca grazie a soluzioni che in realtà già altri hanno nel frattempo studiato un esempio in certe tecnologie non succede così non è detto che succeda per esempio in Africa non ci sono mai stati telefoni fissi questo è un esempio molto noto in letteratura le tecnologie di telefonia in Africa non sono mai passate per la fase dei paesi occidentali per cui tutti avevano un telefono fisso in casa adesso non ce l'abbiamo più perché tutti abbiamo il cellulare in Africa si è partiti subito col cellulare se voi andate nella maggior parte dei paesi africani le persone hanno il cellulare molto più diffuso di quanto potremmo pensare lo è veramente diventa veramente un sistema di un modo di sopravvivere di rimanere in contatto anche su ampie distanze su mobilità ridotta e quindi ci siamo chiesti ma perché non gli diamo qualche possibilità perché non studiamo come fare quello che in inglese si chiama il leapfrogging cioè il salto della rana facciamo la stessa cosa anche per la produzione dell'energia questa è una mappa che abbiamo sviluppato qualche anno fa in cui abbiamo confrontato il costo di portare l'energia elettrica in un villaggio isolato in un villaggio remoto mettendo a confronto due possibilità o i pannelli solari fotovoltaici con batterie oppure il classico generatore diesel in blu vedete le zone dove il generatore diesel vince ovvero costa meno in rosso vedete le zone dove invece vince il fotovoltaico il pannello solare e come vedete ovviamente uno direbbe dal punto di vista logico ci sono la maggior parte del continente è rosso e dove è blu è semplicemente dovuto al fatto semplicemente è dovuto al fatto che quelle sono per la maggior parte nazioni in cui il costo del gasolio è tenuto artificialmente basso per motivi politici scusate i dati per esempio la Libia ormai non sono più affidabili ma diciamo sono nazioni che hanno i cui governi hanno basato parte del proprio consenso su una artificiosa economia sul fatto che i combustibili fossili nonostante il prezzo internazionale di mercato sia diverso vengono in realtà incentivati i fossili invece che le energie rinnovabili questo se volete è un esempio di come abbiamo cercato di portare avanti una visione di utilizzo delle risorse e questo è una mappa che i nostri colleghi che poi dovevano dare gli incentivi veramente alla direzione generale per lo sviluppo economico l'abbiamo prodotta e abbiamo e su cui loro hanno anche basato la valutazione di alcuni progetti effettivi di alcuni progetti reali in modo in cui distribuire fondi effettivi e quindi diciamo la ricerca è servita qua ma continuerà a servire perché nel frattempo con la mappa del 2012 i costi del fotovoltaico si sono abbassati ulteriormente quindi già solo due anni dopo questa mappa già solo scusate cinque sei anni dopo questa mappa è assolutamente non più attuale e prima o poi dovremo rifarla non appena diciamo ci sarà un'altra distribuzione di fondi per cui sarà utile avere questa mappa di fondo quindi diciamo lavorare soltanto noi lavoriamo non soltanto per quello che è l'Unione Europea quello che sono le politiche dell'Unione Europea ma lavoriamo anche per tutto ciò che l'Unione Europea fa tutto ciò che l'Unione Europea fa al mondo un altro interessante esempio di studi sono le auto elettriche anche qui vi porto qualche esempio ancora per ribadire il fatto che anche soltanto il settore dell'ambiente è complesso bisogna vedere bisogna saper leggere le interazioni e bisogna cercare di mettere di fare capire e di basare delle scelte su uno studio il più possibile approfondito di queste interazioni queste sono le auto elettriche questo non è un documento del nostro centro di ricerca ma è un documento di questa Union of Concerned Scientists l'Unione dei Scienziati Preoccupati che prima si preoccupavano della guerra fredda adesso si preoccupano del cambiamento climatico che fa vedere come sono le emissioni delle auto elettriche le emissioni delle auto elettriche sono una politica sono anche diciamo sono una possibile soluzione anche per l'inquinamento delle città come avete visto prima nel grafico che vi ho fatto vedere all'inizio il trasporto rimane un problema anche ancora per l'inquinamento atmosferico e anche per cercare di ridurre le emissioni di gas serra ma il ma è che come probabilmente avete sentito anche discutere abbastanza spesso dipende come l'energia elettrica è prodotta se noi prendiamo delle auto elettriche e le nutriamo scusate il termine con dell'energia prodotta da carbone piuttosto che olio combustibile eccetera in maniera non sostenibile rischiamo o potremmo rischiare di peggiorare il problema questo studio dimostra che invece dal punto di vista del ciclo di vita cioè lungo tutta l'operatività dell'auto compresa la produzione lo smaltimento eccetera eccetera comunque li alimentiate prendendo come esempio il modo in cui vengono prodotte l'energia elettrica negli Stati Uniti in diversi Stati negli Stati Uniti comunque ricevete un beneficio che sia che comunque c'è un certo beneficio che in alcuni casi non è se usate un mix di elettricità particolarmente sporco fra virgolette non è particolarmente elevato ma se volete e questo se volete invece è proprio un incentivo ad andare ancora di più verso una produzione elettrica basata sul rinnovabile si riesce ad ottenere delle diminuzioni anche estremamente importanti come sto andando con i tempi scusate meno male ok è un segno a 15 ah va bene ok è pericolosissimo dire questo però e anche qui c'è un però più energia rinnovabile mettete nel sistema di produzione elettrico più la faccenda si complica per il sistema di produzione l'auto elettrica è contenta che si può essere caricata potete caricare la vostra auto con elettricità particolarmente certificata a emissioni zero però per il sistema di produzione per il sistema elettrico che deve fare il giusto matching fra domanda e offerta e diciamo garantire il fatto che l'elettricità comunque vi arrivi che non ci siano blackout che non ci siano problematiche la faccenda si complica questo se vedete e si complica di più tanto più energia rinnovabile mettete produzione rinnovabile mettete questo grafico è un grafico di due settimane fa della produzione elettrica in Germania due settimane fa ho usato la Germania solo perché ha una impostazione grafica molto bella ma per molti degli stati europei ad alta penetrazione di rinnovabili la situazione è molto simile vedete che questa parte questa è una settimana vedete il picco tipico di consumi questa parte gialla è il solare è il fotovoltaico che ha ovviamente il compito di coprire il picco di domanda giornaliero che si ha durante la giornata questa parte grigiolina è il vento e vedete che tutto il fatto che il vento sia il sole è parzialmente prevedibile sappiamo il ciclo ma il vento è più difficile da prevedere impone alle altre sorgenti di elettricità qui potete vedere il scusate il carbone il nucleare in rosso la biomassa in verde e l'idro l'idroelettrico in blu impone soprattutto ah scusate c'è il gas che è questo 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 beggiolino qua che in Italia fra l'altro in Italia serve molto di più il gas perché c'è molto più gas e meno carbone rispetto a questi dati e ovviamente in Italia non c'è il nucleare questa forzante dovuta alla presenza di sole e vento che cambia in maniera anche molto drastica vedete qui dei cambiamenti di potenza prodotta dal vento estremamente veloce nell'arco di due ore aumentate di quasi il doppio diventa quasi il doppio la potenza elettrica generata dal vento tutto questo produce una pressione una difficoltà a operare per le altre sorgenti che invece sono abituate sono tecnologicamente più stabili se operano in un regime costante e oltretutto economicamente erano state costruite in previsione di un utilizzo costante non di dover combattere o entrare in concorrenza con degli altri tipi di 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 sorgenti le quali peraltro sull'evento anche in germania come in italia hanno la cosiddetta priorità di dispacciamento cioè non potete rifiutare di comprare se voi siete un utilizzatore non potete rifiutare non potete cominciare a comprare gas prima di aver finito di aver esaurito l'offerta di vento e sole quindi diciamo questo ancora qui sempre per aggiungere complessità al sistema e per chiaramente in un sistema complesso di questo genere la commissione europea le istituzioni europee hanno prodotto e stanno producendo una quantità estremamente elevata di regolamenti sul mercato elettrico su priorità di dispacciamento sull'incentivazione delle rinnovabili eccetera eccetera le quali vogliono impattare su questo sistema cercando di mettere insieme esigenze diverse la diminuzione delle emissioni l'incredimento di rinnovabili ma anche la preservazione se volete della possibilità degli investitori di continuare a investire nel mercato elettrico anche se non necessariamente nel campo rinnovabile o se volete dare un quadro che comunque dia una certa garanzia che un investimento fatto anche su tecnologie non necessariamente rinnovabili comunque possa dare i suoi frutti e non spaventi possibili investitori altrimenti si rischia di andare troppo nella relazione opposta di avere troppa gente che esce dal mercato in previsione di una non redditività del loro estensimento è un equilibrio difficile che dipende moltissimo dalle scelte che vengono fatte dallo sviluppo tecnologico e da variabili che sono estremamente complesse da prevedere e per le quali appunto serve un investimento in ricerca molto spesso non si sa non è conosciuto questo aspetto ma effettivamente sono estremamente dedicato ed è abbastanza relativamente facile sbagliare fare degli errori che poi si riflettono in problematiche che poi vengono direttamente messe sul entrano nel dibattito pubblico in maniera anche niente cos'altro volevo dirvi vado verso un po' la conclusione potrei continuare ancora un po' però purtroppo poi mi spiace devo fuggire devo prendere un treno e diciamo appunto questo un po' per dare un quadro siccome nell'abstract della presentazione avete visto che si parlava anche del ruolo della ricerca e del ruolo della scienza in queste scelte politiche credo di avervi comunicato abbastanza a sufficienza di quello che si fa quello che facciamo quello che cerchiamo di fare per mettere sul tavolo dati soluzioni dati e prospettive per aiutare a trovare soluzioni a problemi contingenti la domanda è se questo basti in realtà diciamo non è solo questo che entra nel dibattito politico anche su decisioni che apparentemente possono essere apparentemente tecniche un'altra cosa che si è particolarmente accentuata negli ultimi anni è una sovrabbondanza di informazioni di questo è una slide che hanno preparato i miei colleghi del settore comunicazione per far vedere quello diciamo il dibattito pubblico cosa entra la quantità di informazioni che entra nella società e in parte anche nel dibattito politico nei tempi attuali quello che vedete non so vi da un esempio questo è quello che succede in un minuto nel 2016 su internet ogni minuto c'erano 23 mila ore di video visti su netflix 100 ore di video uploaded su youtube 41 milioni di ricerche su google decine di migliaia di tweets eccetera eccetera se vi capita di seguire se seguite il dibattito politico sapete benissimo che non tutti ovviamente ma una discreta parte di queste informazioni portano anche visioni sulla società portano informazioni che in qualche modo possono entrare possono influenzare il dibattito quello che cerchiamo di fare come GRC e questo è un settore abbastanza nuovo che abbiamo aperto è di cercare di filtrare queste informazioni noi ci riteniamo ancora una sorgente di informazioni affidabili in questo caso ma ci sono tante altre comprese tutte le sorgenti di informazioni che vi dicevo prima cercare di filtrarle cercare di portarle sul tavolo dei colleghi che fanno le decisioni che prendono le decisioni in maniera il più possibile unbiased cioè non il più possibile neutra che possono in qualche modo essere considerati dati e informazioni affidabili all'interno del 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 dibattito politico come vedete non c'è più soltanto quello che un diciamo come ricercatore e io sono sempre stato abituato o guardare quello che facevo io o quello che era pubblicato in letteratura c'è altro c'è molto altro sono i dati per esempio che vengono in maniera più o meno confidenziale dall'industria ci sono dati che vengono da cosiddetta citizen science che è una cosa che è diventata abbastanza di moda cittadini che diventano attivi nel produrre dati adesso è stato particolarmente famoso il caso di cittadini che si sono organizzati per andare a raccogliere dati sull'inquinamento atmosferico a volte purtroppo non con la migliore attrezzatura possibile è stato un po' complesso spiegargli che comunque va benissimo ma ci sono degli standard di qualità quando si raccoglie un dato che prima che possa essere utilizzato esperti più o meno che non interessi eccetera e molte altre questo è diventato una parte importante del nostro lavoro filtrare le informazioni armonizzarle metterle sul tavolo in maniera ordinata se la scienza è complessa se il mondo è complesso anche la politica non è proprio del tutto semplicissima ci sono diversi livelli decisionali quindi ci sono diversi livelli di decisioni politiche dove si prendono decisioni su tavoli diversi che a volte non interagiscono fra di loro noi stiamo facendo un lavoro adesso proprio in questo momento stiamo lavorando su per capire se le autorità locali quando fanno un piano per la mitigazione del clima e un piano per combattere l'inquinamento atmosferico si parlano e abbiamo visto che purtroppo non sempre nonostante i problemi siano estremamente contigui molto spesso sono su tavolo di assessorati diversi sono su tavolo di esperti diversi e alla fine si rischia di avere un problema semplicemente perché non si è armonizzato le procedure comuni e infine chiudo facendo vedere questa slide che piace molto al nostro direttore generale il direttore generale del Joint Research Center il quale quando noi diciamo dopo aver prodotto uno studio dopo essere lavorato anche anni e anni su un certo argomento diciamo che vediamo poi una decisione politica presa diciamo non solo o non necessariamente soltanto sulla base del nostro prezioso e suddottissimo lavoro facciamo la stessa faccia che fa qui si suppose la fidanzata scocciata diciamo ma come abbiamo con tutto questo lavoro alla fine tu vai a seguire d'altronde questo effettivamente è la politica questo è prendere le decisioni scegliere in base non siamo soltanto esseri razionali ma nel dibattito politico contano anche cose che scienza non sono contano le emozioni contano se volete anche i valori che ciascuno porta all'interno del dibattito della società e quindi diciamo questo comunque capita che ci ritroviamo in questa situazione emotiva in cui diciamo vabbè io avrei fatto diverso ma d'altronde io non sono colui che poi deve portare avanti le decisioni costruire un consenso intorno a un documento che comunque come diceva anche il relatore di prima per quanto riguarda il punto di cambiamenti climatici l'energia rinnovabile eccetera eccetera l'Unione Europea non ha nulla di cui o ha molto poco di cui vergognarsi di fronte agli altri player internazionali vi ringrazio e mi scuso un po' più lungo e grazie mille per l'attenzione vi invito a venire al centro di ricerca di Ispra che ha tutto un sistema di inviti può essere accessibile organizziamo diverse attività recentemente c'è stato un TED Talk event all'interno del centro settimana prossima ci sarà un Pecciacuccia event che delle presentazioni fatte in maniera molto particolare che dovrebbero essere in qualche modo un po' scenografiche e state in contatto e siete benvenuti guardate sul sito c'è un visitor center si possono si possono prenotare delle visite detenzialmente il venerdì pomeriggio è aperto è aperto il pubblico e poi in varie in varie periodi dell'anno ci sono appunto degli eventi che possono essere aperti al pubblico mi rendo conto che siamo un po' lontani da Varese sarebbe più facile ma vabbè questo è questo è grazie mille ringraziamo il professor Monforti Ferrario sì sì certo anche di più c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda abbiamo qualche minuto di tempo in realtà le domande sarebbero tante però provo a concentrarmi su qualcuna e mi domandavo ho visto la tabella in cui si parlava delle energie rinnovabili che può produrre la percentuale diciamo che può produrre ogni paese europeo in cui la Svezia è arrivata a superare o la Finlandia adesso non ricordo il 50% mi domandavo ma quindi non si lega al potere di acquisto di un singolo paese la possibilità di creare di aumentare la percentuale di energie rinnovabili perché l'Olanda ad esempio che non ritengo sia un paese a basso reddito non riesce a raggiungere seppur una piccola percentuale mi domandavo a cosa era legata questa differenza diciamo che quanto riguarda gli obiettivi si fece questa scelta di prendere come riferimento la situazione già esistente nel 2004 che è quella che vedete qua in questa figura e di dare a ciascun paese un obiettivo che fosse in qualche modo ragionevole e che fosse di essere la possibilità appunto a ciascun paese di ragionevolmente raggiungere con gli mezzi a disposizione quello che si vede è che la Svezia ha una situazione estremamente favorevole dal punto di vista energetico hanno un idroelettrico molto sviluppato e utilizzano biomassa utilizzano in maniera molto intelligente le loro risorse forestali già da prima è una questione geografica anche è una questione geografica una questione di sviluppo delle industrie locali ci sono paesi per esempio la Germania aveva adesso un po' meno aveva un settore fotovoltaico molto sviluppato una produzione fotovoltaica molto sviluppata ed è anche una è stata poi alla fine una negoziazione anche basata per certi versi anche su quanto quanta frazione del prodotto interno l'olto ogni paese avrebbe dovuto investire per riuscire a raggiungere l'obiettivo poi appunto paesi come l'Olanda hanno puntato l'Olanda per esempio ha puntato molto sull'utilizzo dei biocombustibili che però alla fine non è decollato così bene come si pensava sconta un po' il fatto di avere delle risorse di gas naturale molto enormi cioè loro hanno dei giacimenti di gas naturale fra Olanda UK e Norvegia sono i maggiori produttori di fossile dell'Unione Europea che di solito per il resto invece è abbastanza priva di combustibili fossili e quindi alla fine non sono riusciti a mandare abbastanza fuori dal mercato hanno puntato molto poi anche sull'eolico e funziona l'eolico in Olanda però come vedete purtroppo non è stato sufficiente per raggiungere l'obiettivo o non sarà probabilmente sufficiente al momento diciamo per il momento sono abbastanza indietro ecco sempre su questa slide l'ultimo il 32% che si vuole raggiungere perché è stato deciso di farlo comunitario nel senso se devo farlo insieme agli altri sono meno portato a provarci cioè questa è la mia opinione si si ha ragione nel senso che il dibattito è incentrato sul fatto se lo facciamo da soli quelli che lo raggiungono dopo stanno lì e non contribuiscono agli altri se lo facciamo comunitario ognuno pensa che sia l'altro a doverlo raggiungere la soluzione che è stata trovata è fare un obiettivo comunitario con dei ci sono in realtà degli obiettivi specifici per sotto obiettivi nel senso che per esempio ciascuna se ricordo bene ogni nazione deve incrementare dell'1% ogni anno la sua quota di rinnovabili nel riscaldamento domestico per esempio poi devi comunque il tuo surplus ci sono degli incentivi a utilizzare il surplus di produzione elettrica a vantaggio di altri in modo che ti vengano contati addirittura di più di quanto verrebbero contati se invece non viene utilizzato ci sono di questi meccanismi del genere in modo da rendere un po' più diciamo unificato il quadro e quindi poter diciamo contare di più più che della solidarietà su un automatismo fra passaggi di quote tra i vari stati anche attualmente anche nell'attuale direttiva si può teoricamente raggiungere il limite producendo energie rinnovabili in un altro stato ma di fatto la cosa era un po' complessa e non è mai stata raramente utilizzata qual è il modo migliore per convincere la Cina forse passando dagli Stati Uniti mi dico io però perché ad esempio nella slide sulle energie rinnovabili in realtà la Cina sta facendo da padrona ma sono in quella successiva sta facendo un po' da padrona nel senso che si sta inserendo pesantemente ma se guardiamo la percentuale per popolazione insomma in realtà è comunque minimo lo sforzo perché penso abbiano un sacco di carbone quindi non agiscono in maniera nemmeno pesante come potrebbero però mi domando dobbiamo aspettare il 2020 che quindi cambi la gestione statunitense di energia per poi parlare con la Cina o c'è un vantaggio economico da mostrare e quindi è conveniente stanno cominciando a diventare concorrenziali anche energie rinnovabili rispetto a carbone o quando diventeranno concorrenziali il problema al momento è la domanda energetica nel senso che la Cina ha degli obiettivi molto la Cina fa ancora i piani quinquennali come si faceva ai tempi della rivoluzione culturale mi sembra che siano arrivati al tredicesimo piano quinquennale che scade nel 2020 e nel piano quinquennale c'è un obiettivo per le energie rinnovabili che mi sembra il 18% comunque comparabile con quello dell'Europa e la Cina ha questa tendenza molto chiara dal punto di vista che se fa un piano di solito lo rispettano lo implementano in maniera precisa purtroppo il problema è che nel frattempo la domanda energetica sale quindi la percentuale di rinnovabili sale per carità ma il valore assoluto di produzione energetica non rinnovabile sale di più e quindi in questo momento ti trovi con delle emissioni di CO2 ancora più elevate d'altro canto c'è da dire che il problema dell'inquinamento atmosferico pur con tutte le rigidità che anche qualche relatore precedente ha parlato di cui qualche relatore precedente ha parlato sull'informazione in Cina il problema dell'inquinamento atmosferico più che del cambiamento climatico l'inquinamento atmosferico sta diventando molto sentito anche dal punto di vista dell'opinione pubblica in Cina possiamo contare su questo per quanto riguarda gli aspetti interni per quanto riguarda le politiche di efficientamento energetico anche la Cina si sta muovendo diciamo che l'obiettivo per quanto personalmente ho capito è quello di spostarsi di migliorare la propria produzione di cercare di essere di meno il posto dove si fanno le produzioni che le altre nazioni non vogliono fare perché sono troppo inquinanti i cinesi per esempio sapete che dall'anno scorso non accettano più la plastica questa tendenza è molto chiara e dovrebbe portare anche essa a un impatto sulle emissioni d'altro canto si trovano con un problema di sovrapproduzione industriale per la quale non possono fare altro al momento che incrementare la domanda interna e quindi bisogna vedere un po' come evolverà il bilancio fra questi due effetti per quanto riguarda specificamente le rinnovabili per quanto riguarda i target loro scegliano il problema è che sono una società che è ancora molto energivora rispetto soprattutto ai nostri standard c'è una grazie possiamo? sì grazie e invece volevo fare una domanda un po' controcorrente si parla sempre dei punti a favore e dei punti di pregio anche delle energie rinnovabili io vorrei sapere invece le possibili criticità della produzione di energia partendo da fonti rinnovabili e inoltre anche se potete consigliare una fonte anche di letteratura o anche in internet da cui si può avere uno sguardo una visione dell'impatto che le singole scelte quotidiane hanno sulla produzione energetica e sulle emissioni di CO2 grazie sì grazie per la domanda questa è un'altra cosa di cui ci occupiamo che non ho messo in questa presentazione è diciamo la minimizzazione degli aspetti negativi della produzione di energie da certe fonti un esempio abbastanza interessante è la biomassa la biomassa che è una fonte rinnovabile è una utilizzata è conteggiata come fonte rinnovabile e rimarrà per alcuni stati molto importante nel compito energetico è una fonte rinnovabile che va maneggiata con estrema cura va messa va prodotta e utilizzata in un contesto che ti assicuri di minimizzare gli effetti negativi sia quando la produci se avete seguito qualche non so se avete sentito che qualche anno fa c'è stata una lunga polemica sulla produzione di biofuel sul se e quanto la produzione di biocombustibile avesse influito sul costo dei prodotti alimentari sul costo mondiale dei prodotti alimentari e anche soprattutto nell'utilizzo il governo italiano ha dato in passato degli incentivi molto forti al pellet che ha avuto entrato molto nel mercato diciamo che il pellet va accoppiato comunque con delle tecnologie di bruciatore che siano di ultima generazione per evitare di avere un impatto troppo elevato su quello che per esempio in Pianura Padana è un problema estremamente sentito che è quello dell'inquinamento atmosferico quindi diciamo questi sono alcuni esempi poi ce ne sono altri per esempio per l'utilizzo di terre rare nella diciamo la dipendenza dal mercato di alcuni del mercato relativamente ristretto di alcuni materiali di terre rare nel 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 solare scusate nel nell'eolico e altri così come su questo tema come sorgente sono molto interessanti certi studi del National Renewable Energy Laboratory degli Stati Uniti non mi ricordo esattamente per quanto riguarda invece la referenza che chiedevi scusami per cos'era si può guardare un po' in modesto ma se cerca il mio nome su google e cerca food and energy food consumption trovo un report di qualche anno fa su cui abbiamo riportato parecchie letterature che la può aiutare ecco se guardo queste cose sono abbastanza affidabili in questo caso fanno dei lavori abbastanza affidabili certe organizzazioni non governative ho visto un lavoro che abbiamo fatto bene del WWF sul footprint sulla footprint del food e se non ricordo male anche di Greenpeace però poi se magari ci scambiamo i contatti le mando qualcosa di più preciso appena riesco a riconquistare un computer bene ringraziamo il dottor Monforti Ferrario e comunichiamo che a causa di un ritardo di un mezzo pubblico l'intervento previsto per le 18.30 slitta ancora un po' facciamo quindi una pausa tecnica grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.